Ciao a tutti ragazzi, io sono Mario Foglia Oggi siamo su Clash of Clans Come vedete siamo in una guerra 67 a 13 Purtroppo il video di prima Purtroppo, proprio purtroppo Si è eliminato da solo Però ho fatto Perché avevo giurato che facevo il video Facevo l'attacco Però purtroppo non è andato bene E ho fatto Un 52% Abbiamo rubato un pochino di roba Come vedete il villaggio è sempre lo stesso Solo che cambia molto Il secondo villaggio Cambia molto E ho fatto lo spacca tutto al 4 E molti mortai a 3 Ma fra poco andremo a fare Un attacco Sopra al secondo villaggio E vediamo come va Nico Tra quanto fai il video Tra quanto fai il video Vediamo cosa mi risponde Tra poco Va bene Vi raccomando Iscrivetevi al suo canale Che vi lascio in descrizione Andiamo a fare Un attacco Allora Fortino Mi butto come sempre Tre spacca tutto E dopo andiamo a fare Un poco di percentuale Così Ptp 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 Scrivetemi nei commenti Se vi piace questa serie Oppure se devo fare Minecraft Scrivetemi quello che volete voi Tanto comandate voi Allora Vediamo come va Siamo un 42% 46% La stella la facciamo Allora Un 52% 55% 59% Vediamo come va Allora Un bel 59% 62% Perché non va la seconda stella Uffa No 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 Non andiamo bene Allora Un 68% Vediamo se abbiamo vinto Perso Abbiamo vinto Tu Io Lo sto Montando Allora Purtroppo questi I video di questi giorni Saranno molto corti Perché io e Nicola Dobbiamo studiare per Dobbiamo andare in prima media E quindi dobbiamo studiare Però Fra poco Cioè Fra poco inizia la scuola Però io faccio una settimana So per giù Poi fra una settimana Vi porterò i vlog Che tengo due vlog Da portarvi E poi Niente più Purtroppo Questa serie Deve finire Perché io fra poco Devo andare a ripetere tutto Per la prima media Vi raccomando Iscrivetevi al canale Mio e di Nicolò Scusate se ve lo ripeto tante volte Per l'orgente Mettete mi piace E ci vediamo